Savonia ha vissuto una notte complicata con l'evacuazione di circa 300 persone in via precauzionale dalle proprie case. Come è andata? Anche grazie alla protezione civile, ai carabinieri e alla polizia hanno dato una grandissima mano, i cittadini hanno risposto molto molto bene e questo è fatto in modo che tutta la situazione è andata verso giusto. Meno male che non è successo niente di grave, che questa bora che si aspettava è arrivata adesso. Il stato di emergenza è stato avvocato, siamo in alerta, diciamo così ecco, da sempre tenere l'occhio che adesso vediamo il proseguo della giornata. La pioggia che anche se non è stata copiosa questa notte è servita? Ma moralmente sicuramente è servita anche perché si vede tutto assurdo, però qua da noi un'oretta e mezza ha piovuto abbastanza bene. Diciamo che qualcosa avrà sicuramente aiutato. Da parte dei cittadini delle due frazioni interessate, Gabriele e San Michele, c'era preoccupazione, rabbia? Che stato d'animo? Ma più che altro un stato d'animo non di rabbia, di preoccupazione perché tutto è successo verso la sera. Dalle sette e mezza in poi è stata presa questa decisione da parte del comandante del vigile fuoco di Gorizia. Una volta che dopo è partita la macchina ovviamente era già a buio, ma comunque è andato tutto verso giusto. Ma per adesso in palestra resteranno queste 50 brandine, erano circa 20 persone di cui insomma 30 posti liberi. Resteranno adesso in palestra e intanto la palestra comunque adesso non viene utilizzata, così siamo pronti eventualmente. Ma io sono quasi sicuro che non ci sarà bisogno. Il monitoraggio comunque da parte vostra, da parte di tutte le forze dell'ordine prosegue? Specialmente da protezione civile che monitorano la situazione già da sette giorni, dal punto più alto che è San Michele, dal punto che si chiama Brestovets. Con Alice Vigentin, che è il coordinatore della protezione civile, ci sentiamo ogni due ore così che abbiamo subito sotto mano tutte le informazioni necessarie, anche dalla parte zovena comunque.